video ricetta del tiramisù e marron glacé ingredienti per la bagna 250 g di latte intero 80 g di cioccolato fondente 40 g di zucchero ingredienti per il tiramisù 250 g di mascarpone 200 g di panna fresca 3 albumi e 4 tuorli 70 g di zucchero 200 g di crema di marroni 250 g di marron glacé cacao amaro 150 g di pavesini a cacao per la bagna dei biscotti scaldare il latte con lo zucchero facendolo sciogliere versare il latte bollente sul cioccolato fondente e mescolare con una frusta fino a che il composto non si è sciolto e la bagna è omogenea per la base del tiramisù lavorare in una ciotola al mascarpone con lo zucchero e i tuorli delle uova fino a ad ottenere una crema perfettamente liscia ed omogenea fare attenzione che non restino pezzi di mascarpone interi aggiungere al composto ottenuto la crema di marroni e mescolare aggiungere ancora i marron glacé in pezzi ed incorporarli unire la crema di mascarpone la panna montata incorporandola delicatamente usando una spatola completare infine la crema unendo gli albumi montati a neve ferma comporre il tiramisù in una pirofila da 30 per 40 centimetri circa fare uno strato di crema coprire con uno strato di pavesini al cacao passati nella bagna al cioccolato coprire quindi con uno strato abbondante di crema e spolverizzare con il cacao amaro ripetere lo strato di pavesini bagnati lo strato di crema mascarpone marroni infine coprire il tiramisù con abbondante cacao amaro far riposare il tiramisù in frigorifero per almeno 12 ore prima di servirlo dunque numero